Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Gesù Cristo, il figlio di Dio, disse queste parole la notte in cui egli fu tradito. Se il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io avrò a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vo sapete anche la via. Queste parole Gesù le disse ai suoi discepoli, al che Toma, che era uno dei suoi discepoli, gli disse questo. Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Questa dunque fu la domanda che gli fece Toma. Adesso ascoltiamo una parte della risposta di Gesù, perché appunto è su questa parte che voglio concentrare la mia predicazione. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora, Gesù stava per tornare al Padre, era proceduto dal Padre e si accingeva appunto a tornare al Padre. Lo disse lui sempre in quella notte quando disse, sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Ora Dio ha il Dio Padre, ha il suo trono nei cieli. Gesù è disceso dal cielo, in quanto il Padre nella pienezza dei tempi lo ha mandato nel mondo. Egli discese dal cielo per fare non la sua propria volontà, ma la volontà di colui che lo aveva mandato, cioè la volontà del Padre. ebbene lui in quella notte rivolse tante parole ai suoi discepoli e appunto disse loro che andava a preparargli un luogo e quando appunto sarò andato e avrò preparato un luogo tornerò e vaccoglierò presso di me finché dove sono io siate anche voi e del dove io vò sapete anche la via. Dunque Gesù disse ai suoi discepoli che essi appunto sapevano la via che menava nel regno dei cieli. Ma Toma gli disse non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via al che Gesù diede quella risposta di cui io ho citato solo appunto queste parole che sono scritte in Giovanni capitolo 14, versetto 6. Ora Gesù ha detto io sono la via dunque egli è la via la via che conduce alla vita che conduce nel regno dei cieli perché dovete considerare questo esiste un regno celeste e c'è solo una via una unica via che mena nel regno celeste e la via è Gesù Cristo non ci sono più vie o tante vie o alcune vie no c'è solo una via infatti Gesù disse io sono la via sapete c'è un detto che dice che tutte le strade portano a Roma ora non è vero che tutte le strade portano al Padre o che portano nel regno dei cieli perché c'è solo una strada che mena nel regno dei cieli ed è Gesù Cristo lui è la via viviamo in un mondo in cui vengono presentate tante vie la massoneria per esempio presenta tante vie di salvezza tante vie che menano in cielo in paradiso ma quello che dice la massoneria che praticamente è un pensiero molto diffuso nella società è falso perché la via è una sola ed è Gesù Cristo il figlio di Dio lo ha detto chiaramente nessuno viene al Padre se non per mezzo di me non c'è un'altra via dunque non ce n'è quindi in cielo non ti può condurre Maria non ti può condurre Maometto non ti può condurre Buddha Zoroastro Confucio non ti può per non ti può condurre in cielo nessun altro all'infuori di Gesù Cristo perché Gesù è il figlio di Dio colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo infatti Gesù Cristo è il salvatore del mondo Gesù non è uno dei tanti salvatori come se ci fossero tanti salvatori no Gesù Cristo è il salvatore del mondo infatti il Padre ha mandato lui per salvare il mondo dunque Gesù è la via poi è la verità non ci sono tante verità non ci sono più verità come tanti dicono e neppure neppure è vero che Gesù è una parte della verità universale no no Gesù Cristo è la verità e noi vi annunziamo la verità la verità che appunto è in Cristo Gesù ed è la verità che rende liberi è lui non c'è un'altra verità oltre oltre lui no lui è la verità come anche la vita la vita si ottiene credendo nel suo nome credendo in lui non la si ottiene credendo in qualcun altro l'uomo viene vivificato credendo nel Signore Gesù Cristo sì vivificato perché perché l'uomo senza Dio è morto nei suoi falli nei suoi peccati ha bisogno di essere vivificato e la vita la può ottenere solamente credendo in Gesù Cristo dunque chi crede in Gesù Cristo è sulla via della salvezza sulla via che mena la vita che mena nel regno dei cieli chi crede in Gesù Cristo ha la verità conosce la verità la verità dimora in lui chi crede in Gesù Cristo è vivo spiritualmente ha la vita la vita appunto in Gesù Cristo quindi voi che mi ascoltate che siete senza Dio e senza Cristo nel mondo cosa dovete fare dovete ravvedervi e credere nell'Evangelo cioè dovete credere nella buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio credendo in lui sarete appunto posti sulla via della salvezza smetterete di essere sulla via della perdizione che mena in perdizione quindi che mena nelle fiamme dell'inferno che è un luogo di tormento nell'aldilà dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati dico smetterete di essere sulla via della perdizione e sarete posti sulla via della salvezza sulla via che mena nel regno dei cieli non sarete più non brancolerete più nel nel buio nelle tenebre non giagerete più nella menzogna perché conoscerete la verità la verità che è in Cristo Gesù non sarete più morti nei vostri falli nei vostri peccati perché sarete vivificati credendo appunto nel Signore Gesù Cristo e quindi è mediante la fede che si viene salvati non è per le opere che l'uomo viene salvato l'uomo viene salvato per grazia mediante la fede non illudetevi non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori ve lo ripeto non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori ravvedetevi dunque credete nella buona novella che Gesù è il Cristo ricordatevi lui è la via la verità e la vita nessuno lo ha detto lui ricordatevelo nessuno viene al padre se non per mezzo di me infatti tra Dio e gli uomini c'è solo un mediatore che è Cristo Gesù uomo quindi ravvedetevi credete nell'Evangelo il Signore avrà misericordia di voi il Signore vi salverà il Signore vi perdonerà il Signore vi giustificherà il Signore vi darà la vita eterna avrete la certezza di essere dei figlioli di Dio perché diventerete figlioli di Dio credendo nell'Evangelo e avrete quindi la certezza che quando vi dipartirete dal corpo andrete ad abitare con il Signore in cielo perché il Signore vi salverà nel suo regno celeste è qualcosa di meraviglioso questa certezza che hanno solamente coloro che credono in colui che è la via la verità e la vita cioè in Gesù Cristo il Figlio di Dio chi ha orecchi da udire oda che ha orecchi che ha orecchi Grazie a tutti